Modas, sas bogas de esos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Su tempus de hoy, su passato e su tempus benidore de su canto a tenore, contados de esos cantadores e de Bustiano Piloso. In questa puntata, Bustiano Piloso chistiona da con Franco Mureddu, cantatore de Vonne. Franco ha imparato a cantare in famiglia, intentando su babbu che vuoi di uno cantatore con noto e famato e cominciando a leggere poesiasa e canzones sardasa. E il caso che ha pesato con un grande amore posa poesia sarda. Con Bustiano fa' ed ad esa differenza tra sasperaulas tenore e concordo e de comente su un impreadasa infonne, in ue su cantare parisi e el sirriado concordo. In tutti sus anos o de carriera, comente boche in su concordo battor moros, ha criccato de cantare sempre poesia al diversas. Sarraisono tra Bustiano e Franco colada a su demma de su seberu de esas poesial de cantare, de comente poesia e canto sian ligados in su tenore, e chi cantare a tenore el finzas cantare poesiasa bellas. Iscultate boscomo, sarraisonate Bustiano Piloso con Franco Muretto. Arregionammo su de tenore, e no che senara plus concordo che non manco tenore, ma come sa parola tenore besti in don zilogo, come non li spiegas tu e come intendeste su infonne. Semmo su gine Franco Muretto, chi alleado per osa proeglio che tenia da sabbiate su babbu, chi vedi sonaggia e come este Franco Muretto sonaggia e sicuro, questo è un approglio che sta barato a tutta sua famiglia. E gai si distingue ne so il Muretto, come te nos ha dispiegato Michelli in antisi, chi invece se il Baralla un'atteru Muretto però Baralla. Franco tu è de galeannus esse? De su che imbanta. De su che imbanta, ha so schinto. Devo voglia. Se il Zico per il Muretto è il Baralla che è nato chiesto su 38, e tu vedi nel due canno su immanco e cambia da Zico, un paio di gente che si può dare inteso cantende. Non abbiamo su, quando ti sei spesato due, che vieni praticamente su primo anno 60, a intende tenore, se no, no che infonne. Che bivì cantende. Prima non si spiega a Zico questa storia del tenore concordo, e poi non ha la sua seconda cosa. Tenore concordo, in fondo io sto non narrare. Bello tenore, ma è sconcordola. Concordo vuole narrare. È funzionante bene voi, oltre, basse, messe voi. È un aggettivo. È un aggettivo, cioè uno tenore concordo, vuole narrare, è bello, è stato bene. Però si narra pure... O tenore o concordi più. Se il Fagende è uno bello concordo. Sì, sì, bello concordo. Bello concordo pure. Se si narra da suo proprio, bello tenore, ma è sconcordo pure, però è compreso. Sì, 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 può completare. Se il bello... Magari se non aggredava a me, andavano... Casi io tutto il tenore. Andavano a casa. E tanto, torniamo a questa domanda che dopo va tu. De questo ambiente, dei gandosi pesati, quanti anni si tenia, sui gli aumenti. Sos primi aumenti che potessi tenere. A me mi campiò da Isola, io ho picchiocchetto di un di gandosi. Il papà mio, Michele Sonaggia, illuminato prima, ha piato una mezzaderia in campagna. Devo sui giumani. Mi campiò tanto in molti medias, per il sabiamento di Isola. Mi campiò da Isola a passare il bello. S'ha passato in mente in Asia. Il babà è sempre andato a tenore, ho notato da me. E quindi, fino a che in forza di vita, che stavamo noi, qualche volta, sortivano i compagni, esaggiano un'andata. Di quali anni vedi i babà? Dito 22. No, babà è un po' babbo. Un po' babbo mio. In forza, in onnesi babà. Ho compreso male io, ho compreso male che vedi su mannedo, che non abbiamo noi. No, no, no. Babà è un babbo. Babbo o babà. No, non abbiamo tutti i due. E invece il mannedo d'uomo, su manno, su babbo e babbo, è un po' babbo. E dice, babbo è morto su babbo e babbo e ti ne ha due anni. Ah, tanto. Quindi non ti può donare. Ah, il morto zofano è... Allora, su Muretto nostro, fino a tuo provergio prima, non fu sonaggio, fu di rammento. Rammento di Francesco Matteo Muretto, noto frammento, è noto poeta a Fonni. A Fonni fuori di Fonni. E quindi, e ti è successo su sonaggio? Usto, ho un'istoria, ma non ti ho babbo. Su babbo e babbo, ho di, a un pangelo pastore, a un'azione di Bussacchi, con la zona. Tocca che li piano non c'è il resto. e poi, e poi, i zado, mi chai indagare, indagare che ha dato, che le ha impiato a Fonni. Mi han dato, mi ha detto a una Fonni, che ha teneo a tre sospanjos, può fare un rinzamento, che li chapan a Fonni a Usto, che li si han tirato su erra a Fonni, sazonagli. Due o so, si han puesto sazonagli a Ollo e sonabana. So sattano, che ho ha impiato a Fonni a Fonni, e non sazonagli. Ando, sin desunas billi, si intendian su erra, ponen infatto, ponen infatto, che lo ha impiato fino a due diana, brincao su erra, un po' tra la Fonni, e non ha visto se erra, si ha impiato una terra il lato. Da etando, pare, e su brammento, si è distrao a impiato in zonaggia. E come te di storia. E' fissinente, babbo tu cantaia da canto disaspasato, li intendias cantende. Ia, li intendio, andando a hizo, e intendio su tenore, di solito, ando veniana, su tenorello che lo concordavano. E babboi puro a zonare di prima, che sia, de moi sa voi, non fu di bella mentevoe, però aumenta il traggio di fenomenale. Fino andando andava in Tio Pietrino, a udisa ontra di Tio Pietrino Purdu, ando su tenore, non fu mai da apposto. Babboi li dava due stirate di voi, e su tenore lo concordava. Giù è di un traggio particolare, tanto nel di noi è presente, mi è testimone di questo. Deo apocriare, dell'imitare, non dell'imitare sa voi, e di imitare il tuo tipo di traggio. Non può chiamare di lui. Quindi secondo me sa voi è soggettivo, capito? È soggettivo, e abortas ambia fino in base a tutto tipo di anzoni, di roba, i due li ponesi a andare. La passione mi svenne a casa, praticamente. Pensa proprio, non ha molto famiglia. Sì, di famiglia, di famiglia, di famiglia. Tanto a Uve, il giornalino non arrivava, lì si si telegiò dei nivi, Antone Zardas, il giornalino, tecche, Uve non arrivavano a Uve, io credo che l'anzoni sarà da te, e tenia babai, del mereu, di pirasa, di cubetto, dove tenia tantas, e io piavo, io cominciavo a leggere, a leggere, a leggere, e da Uve. Mi nasce una passione, ma una poesia, sono un cultore in particolare del sonetto, se puoi te considero il suo sonetto un antico completo, se temi puoi cantare un'ottata, sì, potrebbe essere bella, però non serrata, il suo sonetto ti nada il tuo 60 anni, il tuo 60 anni, capito? Quindi la possiamo sempre preferire cantare il suo sonetto, ecco. Ha cantato il brusso sonetto? Sì, sì, soprattutto, soprattutto, un'ottata spuro, però, soprattutto il suo sonetto, lo considero, nonostante pare di origine del suo sonetto fino a questo spettano di siciliano, no? Dice Italia, il Veneto? dalla Sicilia, pare che sia quello lì, aumenta la terzina, bene dalla mondana commedia, è la divina commedia, la divina commedia, è stata in terzina, e pare, il suo poeta, il suo studente, non bastava la natura, quando non mancava il suo stemma, di pieno di cilaterra, lo so pure, quindi, leggiano tutto, la storia, la divina commedia, tutto quanto, e quindi, da ora, la poesia, si è migliorata. certo, è tanto, quando hai cominciato a cantare, che vedi, che in questo, con il panso, poi però, prima, non abbiamo inteso, in famiglia, imparato, in questa maniera, poi tu hai provato, la struttura, da Zico, da Zico, da Babbo, tu, poi, tagliato, con un filone, no? Sì. Il caso, è diversa, come se non si è spiegato, però, puoi provare, proprio, il suo tenore, chi canta, io, sa? Allora, il suo primo tenore, è potente, il mio tenore, è un atto, il mio, è un atto, Pippino Pù, Luigi Tupitrino, che è sbiato, il mio schieno, che è morto, il basso, Tonino Falconi, troppeggia, a Proergio, mi subito, questo, il suo tenore, è un atto, il suo tenore, è nasce in 1977, 1977, in 1980, ho miti, Mario Lordo, se mi subito, si che è andato, andato per traballo, Pippino Pù, dai a tutti i turni, si no zana, io, di un paese, balla, a xeraderas, che non mi finisano, è un preso, e quindi, ando, ti mancava, di uno di questi aspetti, lo aborto, non chiedi, di ademperate, e quindi, se sti smitio, dai uve, il suo battomoro, andò di nuovo, più saltando, in questo tono, le manano, veni in noi, e ha cominciato, in 1980, in il suo battomoro, po' 37 anni, più o meno, ha descontato, che il suo battomoro, sempre andato, in il suo battomoro, sempre in il suo battomoro, vestito, ambito, il suo battomoro, puro, su tenore, completo, ha andato, dai 80, 81, 82, fino a 87, 87, parte del 88, poi Bobori Mula, ha un'altra famosa, si chiamato a Reggio Emilia, e poi, un attiro si chiamato, in un momento, manca uve, e insomma, tanto, tornavamo a piare, a terra, a terra, per esempio, il mancato, a terra, a terra, e avevamo piare, a cervello, Michele, Michele Angheleddu, noto cervello, a terra, e se oltre, avevamo piare, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, insomma, avevamo piare, questi cambiamenti, però, questo ha parlato sempre, per un tenore discreto, avevamo un perno, su basso, Franco Mureggio, aumenta Mimmi, Proergio Balia, si, che lì, era in Balia, sconnotto Balia, io credo che vi sono, San Benato, uno basso, del tutto il mondo, fenomenale, uno basso tondo, completto, tu e provas o non provas, si, a peria, su basso Uddu, che lo tirava da, Uddu, assimigiava a me, me, ma peropro spottente, assimigiava a me, su basso, di Bolletto Pecciò, e andava in Tio Petrino Puddu, Bolletto Cugussi, Uddu, sa propria armonia, più o meno, capito? E poi, teatro basso, invece, come in te vini? Eh, per i debili, per i su, non fu un inarmonioso, somente Uddu, fino a una ontra, un'ontrieta debile, no, no, in questo balia, e sia bello, così tutto, non vi ho detto, o no, no, su basso, un trauli, in fondo, capito? Un basso, un trau, si adattava giù, adurir calampo, un prendia da, se due, per esempio, un uo, s'orta e meda, e s'abrandava la tonalità, e poi non gli spuntare, su basso, da ontra, se io d'orta, e tanti c'appavano i suoi, su di una ossa, eccezionale, no? Hanno usato, bello stenole, insomma, non siamo difessi bene, quando si andava da primi, in nuoro, noi sui due di lamenta, sa? S'abrandomolo, abbiamo spiegato, due volte su primo primi, due volte, una volta, non sono a posto, e che si è coimbiti, omo sta ossa, la pozonare, di più di, Gian Paolo Mele, in giuria, Gian Paolo Mele, è di origine onnesa, è un nisso, è un torneo su brade, se non si hanno inventato, sono scolosi in nuoro, questa curcilla è mandato fra, se già si andava in nanti, sui spori, in su ponteggio, però hanno su primo primi, non ve lo damos, lo sponiamo, è che se è coimbiti, se non hanno tenore, si andava a noi, non è tutto il brade, un prezzo è demisente, e a tutti sempre esprimiamo, è un prezzo è demisente, cioè, stava fino a casa, no, paria da, a tenia sacco, però, non è vero, se noi, se teniesse un astro, calo, di trasbattomolo, però, sono i meriti, si tenia, ma il tenore, in su pari suo, è una cosa straordinaria, insomma, un uomo è un uomo, 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 ma il suo orgoglio, prima di noi, in giudeo, è praticamente, da un po' noto, andando proprio, in palco, e fino a fuori, a prima di Cristo lo bottaro, e a prima di Cristo lo bottaro, uno o due anni prima, poi non è un uomo, e cercare per il tuo bottaro, uno è un uomo, bello, e noi si, e si portava, paravamo solo, amacchiato da questa musica, da questo modo di cantare, e a bella bella, abbiamo spostato, infatti, abbiamo fatto il tenore noi, infatti, questo è un uomo, e nasce un uomo, e erano tre uomini, e giù mio Davide, che è un uomo, ed è orgoglioso, che è il tifoso, che è il tenore, ha fatto una tradizione, di poterare, se la prima volta, andavo in palco, in Zaitria, e avevo tre gannos, e venivano a dom, uno basietto, una misuvo, tutto piciochetto, scannalietta, e io, che è che, ho sbagliato a Dio, però, non mi voglio più, ha il merito, se non tengo, lo teniamo la natura buona, capito, questa passione, e da lui, nasce uno tenore, grazie a Dio, sai, di risultare. e beh, questo è un gusto, su chi finisce, sui barallapuro, no? Che, questa è una tradizione, quasi familiare, poi diventa, cioè, uno pizzo, l'impara, da che avvenza, tenere esempio, di sui babbo, non è che sui babbo, li impone, decantare, sono niente, che, intendente, in famiglia, con questa passione, poi viene da te, puro, no? in domo, e sui gassi, Davide, a forti risultare, sui battomoro, si risultare a me, ma c'è, ha cominciato i gassi, e poi, sono un pangelo, sui matti, e ho, in fondo, mi ha dato una pariglia, tre, tenere, più o meno, un bel pezzo, magari diverso, poi c'è uno di travallo, non è mancato uno, uno su piridi, ma fino a questo giovane, perché ho visto un calo pezzo, sì che c'è indietro, e ho un tre basso, fino a presenti noi uno. Chi resiste, a fare tutto, tutto lo spazio. E lo ha bene, non lo ha, lo ha bene, non è facile. E qui su, come te mi finendo, qualche altro, in Atralbidas, è scanto, ma passione a me, da chi uno che impara tutto, su Sparta, no? Eh beh, poi lo provano, e giù, e se scorda il vocale, si portava pure, poi, no no. Sì, sì. Io non lo ho detto, è così. Invece il Davide, è commentato tutto, pesa a boche. No, Davide ha due svantaggi, sempre da me, ma questo non lo ha, io sono sempre modesto, comunque. Davide ha un po' più discreto, è potente, ma è crudo, non lo comprendi, no? E te che rende, non lo comprendi? No, è nasale, non giù, è una melodia, gli serviti, o mentre la tieni a Baralla, per esempio, o mentre la tieni, questo rubottaro, e altro, è potente, creare, non mi capisca, se non lo prende, 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 ma Davide ha tenuto un'altra, un'altra dotte, e non aveva il mio padre, Davide, sia, ed è, se non lo prende, si è pure, non lo imparava, magari è un'anzone ballo, bella, lunga, tanto si lo imparano, però, per essere un'anzone, Davide, è bene, non può essere giù, ma, se aumenta la poesia, la mastiglia pure, non lo prende, Davide ha sempre rega, si è, però, sono bella, però sono bella, e finché, scomente, me lo dì a te, che, è abbastanza, si, è bravo, naturale, che è il bene naturale, si, come, un'altra domanda, che magari è, questo, subruzzo, che avvicini, il tuo albocco, che è su denore, fizzici, che Mario è morto, che Mario è morto, parentesi, diverso morto, diverso morto, e se non è, né Baralla, né sonaggia, no, hizo, di Zarraccia Antoni Emina, lì andavamo, di Antoni Emina, e noi siamo, zonaggia, tutta una cosa diversa, tutta una cosa, di un'altra parentela, che a Murello, subendo a MEDA, in fondo, è uno dei San Benato, che è bestruzzo, di tutto, invece è tutto, aree, in fondo, di Murello, in MEDA, non siamo, magari, i parenti, di allargo, però, non siamo, più, che sono perditi, certo, però, sono aree, non la, però, Mario, este, mi pare, che, in Bantotto, non mi ha meno, no, in Bantanove e Sessanta, sia Dizzo, sia Boborimulas, sia Balia, fin tutto, in Bantanove e Sessanta, quando, tu sei, ti sei sposto a cantare, in esso, che sono, la seconda generazione, non sono, dei suoi tenori, due, che sono i primi, il finiziente, dei suoi tempi, e poi, esso invece, otto anni, per il minore, nove anni, il decano, per il minore, il de te, però, quando canta io, zizio, zizio, posso appi scurtato, un talvolta, tu hai canta io, spruzzo a boche notte, ne ho sempre, andato a boche notte, e Mario, canta io, da sol ballo, come ti mai, gustati questa cosa, qui? Ma, allora, in cui, è una questione, Deo, non ha, in tutta, la carriera, dei 37 anni, di Antonio, andato, sa propria, o sin tu, proprio lui, sempre andato, sonettos, ottadas, diversas, a cada vida, creavo, di studiare, l'ambiente, su, santo, si storia, e tenia, a bordo, che c'è Milo e Deo, andato a c'è Milo e Deo, poni un poeta di onno, Mario Montone, molto bravo, con i sonetti, e le dava, ma, devo andare a noi, e, questa vita di te, e, ma, hai mai fatto un sonetto, ma, sonetto di peso, non sonetto di gas, quindi Deo, andavo, a sbagliare da notte, andavo, a sbagliare, e andavo, a dispedita, Mario, andavo, a sbagliare, tenia da, devo andare a sapere, ho tenuto un difetto, ma, questo, non tengo tutti gli sticchieri, lì, ho sempre la propria cantilena, lì, andavo, allora, la poesia, non potete dare, neanche il tenore, il tenore, non potete dare, neanche la poesia, sono i mari di mogli, sono le cose scollegate, poi, la poesia, se due, hanno un sabo, i gossi, gli spiega, in un concorso, un sonetto, vabbè, tu hai, pone da andare, un'ottata, no, e non vedi il tenore, Raimondo Pira, la prima cosa, in avanti, andava da questa sville, gli ponia dubbi, e su concerto, besti, su tenore, besti, se non ho, esce di una poesia monca, prova di avere un'ottata, e poi non intende il tenore, e andava a tirare il poeta, ma manca, vero manca, non vale, allora, tornando alla storia nostra, Dio preferivo, comunque, andare a salvare il notte, e a chiedere di sviluppare, una dedica, nell'apertura, in Quintinayas, fino a me, in Conca, e poi una 60 o 70 sonetto, e poi la lecuna, non era scusa, sui voli, e quindi andavo, andavo su sonetto, so, poi andavo su smuttos, su smuttos, lo siamo a mia spazio, poi te, andavamo studiato tanto, un troppo bello, no, un troppo bello, se non si argatava, argatava un tempere, e poi se dispedita, per esempio, se dispedita, una mila patatea, una bella, e ho sa, ho dappropriata, anche la antepas, andava bene, poi tu sa cabande, ho da un'espeziottata di saluto, e quindi, e mi arrangiavo gas, sì, però i sonetto, i sonetto del Mare Montone, se abbiamo esposto in un nastro nostro, gli è scollegato, poi, a subatto, e tramandasse da Ebbabbo in Fizzo, donos de arte, de natura stento, cantosè, attraente e vonne mia, rendese a so storista simpatia, e s'endevizza i sugen argento, fontana al de Ababrisca, viol de quinto, al rio de cristallo danso via, e deo, in questo canto, bramo e via, che si ascoltando, lo rende contento, questo modo, questo tipo, e canto originale, del sorfonese, scorrido in salvena, scadai babbo in Fizzo, e stramandato, modo cantare tradizionale, di imitare le cose azzena, ma minimamente appovenzato. E mi lamentavo, Gostè? Ti lamentavo? E io a Vuglia, specialmente la serrata, la conosciamo tutto. No, non ho qualche problema, mi andavo a mare, per esempio, mi scappavo, in Gartelli, dopo andavo una volta via, mi pare, una volta via. Criavo, in zona mia, nel libro mio, in Gartelli, non ho fatto nulla. Andavo a Camarino Montone, dopo non ho fatto il problema, dopo andavo in Gartelli, così è la prima volta, io andavo, è bella figura, se è stato tanto scritto. La Ponao, non è stato in mente, a scracchiere ossa. E io, no, Padio, mi ha detto un sonetto. su Romano, su Romano, si ha canito, si sono, canto, su Paganese, muvinere, di Dio, si andetene, a Tiruno, tipo, esso sono dispiaghere, su Romano, di vita e vi digiuno, non ha dosato a Cristo, su miserere, van pensato, sasundal da Nettuno, su crucifisso, a ti dare in potere. Dai dan dovere puntuale, la scostruito che è un tesoro, confide con amore e ornamento. Gartelli, uno saluto cordiale, rezzillo dai sentimi soccoro, ti l'ha partito dai gen argento. Esistori su Cristo de Gartelli all'este, naivunini, mazaios de Bolozana, a andar gioli in Gartelli, non budabba, e andavano a mare a si cacquare su mangiando. Ha dato una notte e venti da tempesta, e nata ustu Cristo di Linna, in dispiaggia. Na, il ancorriato su arro, ustu, es leggenda, es istoria, va e crì, e su arro ne se firmava anche nato uomo sacrisi di Santus Cristo, es istoria su Uzza, e Mario ha tenuto un libro antico, Grutugosi, che ha dato un sonetto. Però, l'ultimo, che ha posto un altro significato, che giustamente ha posto tutta esistoria di Roma, di Michele, esistoria di questa cristianità, e che è andato bella poesia, è inutile. È andato via, via, è normale. Vado, mi ha dato un altro, però, Francesco Mura, il poeta di Silano, è morto in desolo, andando, iniva uno finanziere di desolo, un certo antiogo Piroi, amante della poesia, organizzava una gara poeta, che è andato sua, pagava i poeta, i poeta, i compagni, si appassionano di poesia, e era la gara. Francesco Mura, è morto di un infarto, andando in domo sua, deve piantare in Silano, a Santo Lorenzo, Budi, andando il morto Mura, mi ha messo di differenza a questo e a Santo Lorenzo, e noi ciò, ne ha le dedicare a Santo Santo, ne ha una commemorazione di Pumura, andando a Mario Montone, la buona oma, oseguci, e andando, il meglio se la è Pumura, già di là, odeo, e mi ha dato questo sonetto. Ossilanos, da suo fuzido laru, secos al frunzas con i strappuforte, la sconsigno a Francesco a sa consorte, l'isiana de consolo e de amparo, nemmo spottito ponere a reparo, contra e sostinato a malasorte, asserrato il suo soio su la sua morte su vizio che di nias tanto caro. Reposa, in pagasanta a caro Mura, t'appartene da una terra aurora che a questo mondo deve lasciare, sul dono che ti ha dato la natura ha sfruttato fino a la sua morte su la sua morte che ha fatto frammare. E si vengono un masaleggio su poeta Silano e mi hanno detto fra complimenti a bello sonetto che non è un mio sonetto dell'apontato 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 di tuttale di Mario Montone e di l'unosia. Sì che, insomma, poi potremmo di gratturiamo. E ha compreso che sa passione è passata in ore e ha commentato prima mamma, sorre, muzzere, sa poesia che sui tenori sono croppato su appare indissolubile e sono legato su appare e tu lo vives e te gai la sempre vivi tu te gai e Babudò e tu vi dà passione di poesia? Sì, metà, 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 le dì a metà non tenia la virtù di sammentare ma vai che ti ha da improvvisare ma si improvvisava per esempio non bello stato da uomo dopo un'ora non ti lamentava più. però esatto sul senso che non che lo si può scropare e che la gente si pensa da cantare da poesia a tenore sui tessi logo sui tessi tretto poi che la zera da poche notte mancare comincia da cantare le ottate o batturine e poi mancare che la zera da poche notte e poi l'ultimo ballo pure e la poesia e la teat era poeta il malnato Piras Piras Cupidu Cupidu quello che mi ha mento che l'ha scantato metal volta in palco pure di questa poesia del dono della natura di questa poesia di la pintesa cantata in palco più di una volta ed è Barore Sassu che ti canta i tessi invece Barore Sassu per le altre ottate se il suonetto non ha dato pazza ma mento mi ha notato una storia per finire scritta in Cracchi Libri in un momento in Cali o di andando in Bidanova a Monteleone Barore Sassu e Piras Anna comincia a andare a 39 a 3 di notte un galù andando e Barore Sassu e abboinava la gente andate andate e di diavolo fa che Barore Sassu mi chiedevo soviò il mannitto puro e rimundo mi e da voi andavo non mi intendo manco bene e basta le tue abbiamo scominciato a cantare che sono sastrere di manzano e ancora si sa bocca a cantare e io non mi intendo manco bene non ha finito manco questa parola a noi ti chiedevo a mille mozze a mille che mozze le sopra sual che da noi Piras non ti che mozze ino che Barore non chiedevo che vette scusse a bro si votese agguanta suo dolore sospensamento lascia la sua coa pruitte di essere troppo onore a se se pu stare in Pidano se questa vita intende si ha concluso a morrere da radicchia a lo costo e Barore sasso che non si chiedevo a pitticato meta le rispondete vai a morrere non bisogna pensare ancora non non bene da sadie né su camposanto di solende con rughe secolose al dainie più sapristo tu esistimente chi da voi non be patalogo a tie si pensa mentos base integue fai una cosa col cadichi due questo era Barore sasso è tremendo è fide abile meta improvvisente si vede per il mano di pirasi si si vede sotto i centos invece di su gimbe no 1900 e chimbe si 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 mi pare che la ser rammus no che in costa bella sottata al de pira casa e des asso chi non fa che comprenne regalo una orta impruso come questa cultura della poesia della cultura del sud e via parisi in sardegna e sigini vince se si alle val no come non scontato tanto grazie a franco questa regionata grazie a voi quando ci stiamo a ten ore mi 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 piacere grazie grazie a voi ades escoltato modas sas boges de sos cantadores a tenore su podcast de su progetto modas intervistas de bustiano viloso produzione esecutiva de diego pani registrazione sas audio de bustiano viloso e gigi oliva editing e mixaggio de roberto macis sigla e presentata de sas puntadas de diego pani sas sigla e su ballo dorrao devonne cantato dai su concordo su connoto su podcast de modas est un traballo de sisre istituto superiore regionale etnografico de sas artiglia 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 de sas artiglia